Siamo l'Ezio Sclavi di Arma di Taggia, oggi epilogo del torneo dell'Ezio Sclavi e non poteva esserci che in testa Carmelo Guidernone con la sua Oro Kashmir. Questa sera si scontrerà contro Tecnocasa. Carmelo qual è la novità che ci vuoi dire? La novità è che l'Oro Kashmir dopo tante vittorie e tante soddisfazioni verrà sostituita appunto da Elia Kashmir in onore al mio figlio nato l'anno scorso. Qual è la prima cosa che hai pensato quando è nato tuo figlio? Finalmente posso passare i miei debiti a qualcuno e dormire qualche ora in più la notte è rilassata. Grazie Carmelo. Buon portiere, via! Vuoi giocare tu? Ti do una maglietta? Si, mi scato in porta. Non posso fare di più perché guarda quanti sono. Guarda, noi siamo... è un'altra parte di un'altra parte che non ho bisogno di fare. Noi con i bianco Rossi ci abbiamo fatto un'altra parte di un'altra parte di un'altra parte. Bravo, bravo, bravo. Grazie. Bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo. Bravo, 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 bravo. Sai perché? Questa è il mondo... E' loro, senza farlo. Vieni, basta dietro. Sì, c'è anche dietro. Henry, la trove là. Sono in tanti, sì. Ma va bene questo eh. Sì, dai, dai! Vieni, 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 vieni! Dai, dai, caga, va bene! Dai, dai, dai! Non lo fare. Uno a uno? Sì. Andiamo a cercare di... Bellini. Tanto fa i soldi del terzo posto. A far batterlo con me? No, lo battono. E' lui in secchio perché ci piegono lì. Un, due, 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 due. Sennò quando la gente li prende in grande, tipo, che ne so, associazioni sportive, così... Sì! Undici euro e pacchetto. Sì! Anche Fabio adesso per il torneo non so di chi... Sì! Non si è fatto dare nulla loro! Viola le prende da noi! Ci fa giornata, no, vediamo al ritorno, abbiamo vinto di noi! Sì! Sì! Più, più giovane! È regalamento! Perché non lo so? Bellotto! Bellotto! Che cos'è? Ma allora abbiamo fatto secondo in classifica! Sì, ma tanto se le do a uno... Meglio al capogame! Ma lui lo fateva! Tira una! Tira, due, tre! Eh, ne ha fatti questi! Dai, dai, non voglia! Tira, tra! Eh, ne ha fatti questi! Dai, dai, non voglia! Tira, tra! Sì! Scalpeone! 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 Scalpeone!